Questo modellino della Ritmo, che è stato fatto in collaborazione con la Laudo Racing, che ringrazio, diciamo che il progetto è partito in questa primavera, è stato curato nei particolari, come potete vedere, l'interno e la parte esterna, con tutte le varie particolarità che ha questo modello. Anche i cerchi a rombi, con il colore dedicato, che non è un grigio come si usa in genere nei modellini, farli metallizzati, ma in grigio pastello. Per poi non parlare dell'interno, perché nelle varie versioni cambiavano anche gli interni e i vari accessori che componeva questa vettura. Sono state fatte le varie colorazioni, quindi rossocina, il verde kente, l'arancio messico, l'azzurro rodi e poi anche l'azzurro metallizzato. In futuro dovrebbero uscire altre colorazioni all'aggiunta al completo della colorazione del modello 78-79. Diciamo che ci saranno anche dei modelli, probabilmente nei prossimi mesi, perché stiamo collaborando per la realizzazione di tutta la serie Ritmo, quindi ci saranno anche modelli speciali o modelli tre porte, nonché il libro che abbiamo fatto, in realizzazione con l'ASI. Anche qui devo ringraziare Matteo Comoglio e Marco Netti, perché abbiamo fatto un libro dedicato esclusivamente alla Ritmo, ai vari modelli. Lo potete trovare sia sul nostro sito o social del FIERITMO CLUB ITALIA, o su Amazon, o nei negozi Mondadori. Questo libro che è molto interessante e sicuramente piacerà a chi vuole approcciare al modello e chi vuole iniziare a fare un restauro su questa vettura. Il club nasce nel 2011 con la passione mia sulla Ritmo, perché ho ancora la Ritmo che era di famiglia, una 65 Blue Lord, che ha fatto negli anni, abbiamo tenuto ed è stata conservata, per poi aggiungere altre nuove ritmo in famiglia, tra cui una 105, 225, una Cabrio e anche la Zurro Rodi, la Rosso Cina, che le hanno come questo modello, perché abbiamo preso appunto campione dalla Rosso Cina e dalla Zurro Rodi, per poi dare la possibilità ai nuovi utenti, alle nuove persone che vogliono avvicinarsi al modello, di avere la possibilità di fare un restauro o conservativo un restauro totale. Il club è formato dal gruppo di ragazzi dove vengono fatti raduni, vengono fatte manifestazioni culturali per conservare questa vettura. Ci potete trovare sul sito www.fiatritmo.it o www.fiatritmocabitalia.it Per informazioni potete trovare i contatti anche sui social, Instagram, Facebook, YouTube, dove facciamo anche dei video con la collaborazione principale di PC55. Quindi riusciamo a fare dei video dove parliamo esclusivamente della Ritmo. Quindi vi chiedo di collegarvi al canale del Fiat Ritmo Club Italia, dove troverete anche le indicazioni sulle nostre future manifestazioni o anche parte tecnica della Ritmo, quindi è una cosa molto importante. Grazie a tutti! Grazie a tutti!